Musica Appartenere a questo luogo? Sì, certo Perché? Senti di appartenere a questo luogo, a Firenze? Sì Ah sì, io abbastanza A Firenze mi è piaciuta come ambiente, come città Perché non lo so, però sì Però sì, per tradizione, per radici No, non molto, perché ho fatto un anno, un anno quasi e mezzo di esperienza All'estero e mi trovo coinvolto, diciamo, culturalmente nella vita del paese dove sono stato Che è? No, direi tanto In Firenze c'è sempre qualcosa da scoprire, anche in Italia, la città per mille volte o per anni Sono sempre cose nuove da scoprire E cosa vorrebbe anche rendere più felice la vita dei vostri figli? Per lui spero un miglioramento della società fiorentina, delle persone, cioè un riappropriamento della società fiorentina E secondo te cosa manca alla città? Un po' di iniziativa, un po' di movimento, un po' semplicemente più giovane, un po' sempre, ma con la città E secondo voi che cosa manca alla città? Iniziative moderne riguardo a mostre, d'arte contemporanea, concerti, qualcosa di più contemporaneo Perché, cioè, basta guardarsi intorno, comunque ti giri a qualsiasi giorno trovi, comunque sia persone hanno un'età media superiore, quantomeno ai 40 anni E manca... Facciamo che non è molto... non ci sono strutture per i giovani E il centro non è affatto... Quindi anche... C'è un po' investimenti per i giovani perché ovviamente la maggior parte delle persone hanno un'età che supera, diciamo, quella dei giovani ad oggi Insomma, la percentuale è molto... un po' prepriparata